Chiusi della Verna per Amatrice, continuo a farti sentire la solidarietà degli Aretini con un evento speciale della cittadinanza onoraria, il sindaco Pirozzi. Sì, abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che sia un sindaco che rappresenta un po' tutti noi, lo stiamo seguendo credo come tutti in questa purtroppo sciagurata situazione che si sta trovando quel territorio. Anche su questo noi abbiamo dato e condiviso insieme a tutto il Consiglio Comunale di dare la cittadinanza a Sergio e il gemellaggio con lo stesso Comune di Amatrice. Ci sarà anche una serata di beneficenza ovviamente a favore delle popolazioni terremotate, cosa ci sarà sabato 4 marzo? Ci sarà un grande evento di beneficenza con la collaborazione che è nata tra il Comune di Chiusi della Verna e Cultura Nazionale, l'associazione che presiedo. Sarà un altro, diciamo, la continuazione di quello che facciamo l'11 dicembre ad Arezzo, però qui sarà ancora un pochino più completo perché ci sarà il gemellaggio tra il Comune di Chiusi della Verna ed Amatrice e il conferimento della cittadinanza onoraria a Sergio Pirozzi. Ma non solo, ci sarà il vice sindaco di Amatrice, ci sarà il vicario del Vescovo, ci sarà Emma Moriconi che tornerà a presentare il suo livello. Insomma, 380 persone si sono già prenotate per questo grande evento, oltre 100 purtroppo non troveranno posto, quindi un grande motivo d'orgoglio, un grande segnale che noi vogliamo annunciare a quella comunità in questo momento dove i riflettori si stanno spengendo. Noi non vogliamo che si spengono, ma la solidarietà deve continuare.